E benvenuti in me e molto altro, sono il men giallo e nero e oggi continueremo a play tale requiem, mamma mia che gioco ragazzi, che gioco, allora torniamo qui, ok premi tasto non vedo l'ora di scoprire altro, siamo al quinto capitolo nella nostra scia, quindi vediamo cosa ci riserverà questo gameplay, ovviamente io sto facendo una serie perciò recuperate i vecchi gameplay e volevo dirvi che se volete seguirmi sui social potete sempre cliccare solamente nei link in basso nelle descrizioni del mio video e mai sui commenti perché è successo, sta succedendo di nuovo che mettono di commenti su roba che comunque cliccandoci vi porta un sacco di guai, non vi dico neanche che roba è perché non va cliccata sotto i commenti nessun link, solo quelli in descrizione che io metto nei miei video, detto questo la campanellina mi piace, condividete, iscrivetevi, già lo sapete, andiamo nella nostra scia quinto capitolo. ok fino adesso è successo il macello grave, quello che lo chiamo io, veramente qualcosa di bello come gioco, veramente bello, profondo nei dialoghi è successo un macello che abbiamo distrutto una città praticamente, è stato il povero Ugo, ora andiamo a vedere adesso il continuo come sarà, e chi c'è qua, dopo che abbiamo distrutto una città, con amicia, Ugo e il buon Lucas, allora è madre e timoniere al compagno, ok scendiamo, vediamo che questo è boffa, vai spingi va, ce l'abbiamo fatta, ci aspetteranno a valle, ci aspetteranno a valle, quindi andiamo, intanto fatemi chiudere la finestra, scusatemi, allora, ok 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 ci siamo, ci siamo, un piccolo inconveniente delle campane che suonavano, allora dobbiamo andare a valle, intanto qua sono tutti praticamente morti, ok e qua c'è da scoprire, intanto le ambientazioni sono fantastiche, tutto questo che è successo è perché è la città distrutta che ha portato a valle tutti i corpi praticamente, tutte le macerie, quindi recuperate il vecchio gameplay, l'abbè se ancora non l'avete visto, allora intanto mamma mia che bellezza, che bellezza di gioco che può essere questo, allora dove dobbiamo andare, oh c'è una cassa, una cassa molto importante da prendere, è vero amicia? allora, che abbiamo preso? Alcol e zulfo, potremmo dar fuoco a una foresta tra poco eh, allora vediamo cosa c'è qua, se c'è sta qualche cassa, qualche cosa strana, invece no, però forse mi fanno adequa, no, pensavo che era più basso, l'uso di questi tronchi o comunque, si voglia, tavole, è un po' troppo ricorrente, però ci sta eh, ci sta, oh ecco lì ammazza che bello qua, e mo' torno eh, perchè è vero, perchè se si spaventa poi dopo, ecco qua, no no, non te spaventa, mannaggia a te, perchè se lui si spaventa, tira fuori i topi in poche parole ma state calmo, no ecco qua bell'affare Ugo prendiamo la roba qua, tanto sappiamo ti preoccupare dei ratti mo' ma tecnicamente i topi, ah forse solo con il fuoco funziona sta roba vabbè, fanno così ah, perchè dobbiamo correre, perchè sennò dopo si esaurisce quello, me sa Vediamo se era vero Ok, abbiamo preso abbastanza zolfo Proviamo con la manuella Ah, perché La giriamo e va dall'altra parte Ok, ok Lì però c'è un'altra cassa Allora, lasciamo la cosa Ah, ma torna indietro Allora Vai e interagisci Tecnicamente io devo andare là Aspettiamo un altro po' prima Ad attirarla Va bene così? Dove devo andare qua? Ah, forse è lì? Però no Dovrei andare di qua E allora devo far così per forza Oh, ma no Ma c'era la luce Perché sono morto? C'era il fuoco Vabbè, dobbiamo riprovarci Allora, riepriamo le casse qua Perché ha fatto questa cosa? Allora E ci siamo, no? Poi Per forza così Per forza così E Ok Ok, e ci siamo Aspetta Prima fammi prendere questo E poi Può essere utile Come il pane Ok Andiamo qua E tecnicamente Io devo fa Aspetta Allora Allora Io devo far passare lui Però come faccio Senza fionda? Ah, ok Lo fa lui La mantengo in posizione Sbrigate Ok, ci siamo Ci siamo Tecnicamente Dovremmo scendere qua Oppure no Ah, perché qua Devo fare tutta la cosa Allora Fai così, Hugo Allora Andiamo qua Amicia Potremmo ne un'altra Tanto serve Però lui dopo Come si muove? Ah, forse Con quell'altra Allora Fammi cose fatte bene La moto Lo dico Eh, Lucas Un attimo Vai Smetti Vediamo se è così Oh madre Oh madre Oh mamma mia Che bello Ok Allora Che se inventiamo Ah forse devo far venire il Lucas Che mi invento? Potevo prendere volo? Andiamo un po' Ah forse è troppo tardi Però ho capito come si fa Ora lo fa ricominciare da capo? No eh Allora perché tecnicamente io faccio così e arrivo là Ok Allora Devo attivare la manovellina Che fa tutto il giro completo E devo seguire tutta la cosa Tecnicamente è così però non lo so Vediamo Lo scopriremo insieme Allora Tanto dammo gli fuoco Vai Arrampicati vai 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 amicia Allora Ah gli devo dar cosa Ho qua il bastoncino Becca Eh però come te libero Gli la farà? Secondo me no Troppa poca luce Ok Arrampicati Arrampicati Non credo Arrampicati Arrampicati Arrrrampicati Rampicati Ok Ok Ora io ne devo dar un altro sicuramente Non c'è nulla Come Buona motivazione Ah sta lì quindi Intanto apriamo qua Allora Allora Dove devo andare? No 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 ho sbagliato Ho sbagliato Allora perché si ferma la cosa La cosa incendiaria qua Va bene andiamo sotto Qua cosa c'è? Brigate però Vai 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 Ah 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 L'hiamo fatta ok Lui è rimasto lì Ma cosa c'è lì? Un gancio? Vediamo che succede Ah E quindi lui potrebbe far così E veni da me Vediamo? Sì esattamente Eh abbiamo salvato pure Lucas Ok Allora vediamo qua che si può fare Se potevo migliorare qualche cosa Non abbiamo due materiali Ne abbiamo uno per l'alchimia Da trasportare Munizioni alchimiche aggiuntive Vabbè ma facciamolo tanto Ok Allora qua sotto Allora qua sotto Che non la faremo mai Che non la faremo mai Che non la faremo mai arriva fino a laggiù Però sul ponticello Sì Allora Sicuramente devo prendere questa E se è pure Lucas Se gli conviene Allora proviamoci così Nel frattempo Quando l'ordine L'ordine si otterrà la mano Sì E sarà troppo tardi Amicia Non possono tutti essere l'alchimia Non possiamo prendere la chance Per vedere se sei certo Gli affaremo Secondo voi Se non gli affamo che no Come si fa sto pezzo A parte i rottami qua Secondo me con tutte le bombe Devo arrivare laggiù però eh Ah forse la pece Forse la pece Vediamo Però la pece in realtà no Perché Allora facciamo intanto così E poi ci arrampichiamo Su qualcosa Questa è un po' da capirlo Perché secondo me Bisogna arrampicarsi Su qualcosa lì Che forza proprio E invece no E invece no È giusto che la pece Mi viene in mente Perché io devo andare qua Ma è impossibile Arrivare Fino alla giù Cioè è totalmente impossibile Arrivare là Ma infatti io non devo Arrivare là Io devo arrivare la barca E qua arriva la barca Dovrei scendere là Come faccio a scendere di là Che ci sia un appiglio che non vedo Vabbè Proviamoci Tanto Tutto al più Moriamo Non è che Ah ok De qua Ok 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 Eh non vedevo le scale Non vedevo le scale Dannazione Allora qui C'è da spostare Ok Ok Gli abbiamo fatta Dovamo andare All'altra parte Eh l'ho vista La catena Ecco qui Bella sta cosa Però da la catena Che blocca Allora Mmm O te voglio qua Eh amicia poi Molla la presa Vediamo Col traghetto Ho capito Ma come ci arrivo Dall'altra parte Allora Allora E qua Per forza Questa cosa serve Vedo che bisogna solo che spostarla Allora 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 Se glielo faccio Fa lui Ah proprio dentro Mamma mia Con tutta gente morta Guarda qua Ah Perché c'è questo Che la blocca Ok Il corpo Che lo blocca Che brutta cosa Che brutta cosa Io lo so Che devo fare Certo Sta boraccia Guardate amicia No Una bellezza Sta in mezzo ai corpi La puzza La melma Ugo Tranquillo È tutto ok È tutto ok Anzi Se potessi Lo rifarei Lo rifarei Senz'altro Qualcuno che mi tira su qua Come mi ritiro su Beh Scusate eh Sono rimasta qui Lo torna indietro Che ci sia un altro Sbocco là Mi sa che ho sbagliato Ah no Forse sì Forse devo andare qua Certo Proprio la melma Quella vera La sensazione È maleodorante E molto brutta Ok Siamo usciti Dalla fogna Guarda i corpi Come si muovono Mamma mia Come è fatto bene Per questo gioco Altro che ragazzi Doveva andare qua Per salire Ma intanto Ugo Ah ok Sta sulla piattaforma Non ci stai Non ci stai Non ci stai Non ci stai In Marseille Hugo Non voglio andare A la ordine Magister Vaudin Non era un uomo Lo so Ma questo Sarà Di Ma Sua Isla Ma Non ora Amicia Ok Ok Io sto qua E loro Stanno là Allora Intanto Fammi prendere Scorte Che qua Sennò Ci rimanemo Allora Cosa Debo Cercare Vediamo Se con No La catena Sta qua Ah ok Il contrapeso Ok Fantastico E questo qua Mi riuscirò A prenderlo Manco Per niente Quindi Mi devo Arampicare Da qualche Parte O forse Da qua Avamo Non la faremo Mai Così Allora Sappiamo Che il Contrapeso È questo Ah ok Eccolo qua Fantastico Però Mi ho fatto Il macello Non ti preoccupare Sto bene Ma qui Risolvi una cosa Se se ne aprono Dieci Di problemi Credo che Deba andare Qua I ciotto Li so fatti Veramente In una maniera Pazzesca Ah qui Cos'è questa La pirite No la pirite Quindi mi servirà Più avanti Sicuro Allora Impicciamosi qua Se c'è qualcosa Da prendere Allora Qui c'è la cosa Per spingerlo È ok Questa Amicia Uh Qui cosa c'è Che mi ha fatto Entrare qua dentro Senza un apparente Motivo Così Abbuffo Vabbè Sappiamo Che dobbiamo Spingere Sto caretto Vediamo Se qua C'è qualcosa Per appicare Ah ok Proprio qua Mi sa che lo devo portare Però in realtà Anche lì Vediamo Prima portiamolo qua Che siamo più vicini Ok 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 Sicuramente qua Prenderemo Delle cose Perché No perché Faccianna qua Non c'è motivo Di andare qua Infatti A meno che Che posso saltare Su ste travi Ma non vedo Appigli Non vedo roba Molto strano Vabbè Scendiamo Allora Quindi Te lo devo portarla Avvicina al muro Praticamente Dove c'è quella X E la cacca Di piccione Spigni Amicia Spigni Che gliela Famo Dai Dai Brava Allora ci siamo E mo E dove Allora qui c'è Manovella Allora c'è una Manovella Qua invece Cosa c'è Ci si può rampigare Troppo alto Non ho un carretto Però Allora Facciamo intanto Qua perché Tanto tocca farlo Perché mi porta Di là Ah Per portare Il carretto Pensate Per portare Il carretto Lì Ok Ma come Torno indietro Ah da qui Ma ecco perché C'è tutto Un perché Alle cose Ok Io vado a portare Il carretto De qua Perciò Tecnicamente Anche lì C'era qualcosa Da fare Però vabbè Per il momento Facciamo così Donna sto Luca Sto Ugo Quanto me sta E basta Che poi non tocca Ne manco Fa la gita Perché sennò Tira fuori I topi Tranquillo Ok Andiamo di là Un'altra volta Azioniamo La manovella Magica Ed è chi c'è qua Siamo un'altra volta Questa qua Andiamo a prendere il carretto Lo dobbiamo mettere lì Per forza L'ingegneria medievale Era qualcosa Di sublime Per l'epoca C'è veramente Fatta Pensata Poi Dicono che sia Un periodo Comunque brutto Invece Secondo me No Cioè nel senso È indubbiamente Un periodo Difficile Però non così Cioè C'erano le innovazioni C'era un sacco di cose Pensiamo anche L'agricoltura Per mirare alla baletta Ah ok Buono Così mi piace Ma i dobbins Si possono ammazzare Maledetti A voi Puoi scoccare Diversi tipi di tardi Con la balestra Tieni premuto Rb Ok Bello Allora Ti metto Qua vicino No Però in realtà No Scocca Un dado Igni Per contro Un elemento Legno Per creare Una sorgente Ok Ah ecco Che servivano questi Uno col cavallo Quindi Oh mamma mia Amo con la balestra Bello Stai arrivando dietro La torretta Quando miri Oh che bellezza Mi sto a dirti Come Come un ragazzino Ma che bella Sta scena Sto a piattuti Sto a piattuti Sta tranquillo Io sono abituato Giocavo a Call of Duty Da ragazzino Allora Ti stoppi a tutti Questo non ho preso Però Eh però questa Dardi infogati Ricevuto Capitano L'ho lisciato Però va bene Va bene Vai 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 Seruta Seruta Vai Ok Ok Amo fatti fuori Buono Mamma mia Che gioco Ragazzi Buono Buono così Buono così Tutti a fuoco Vai 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 E qua Oh mamma mia Buona Ma che bellezza Ma che bellezza Ma che bellezza Ma c'è casca il punta addosso Sono sicuro Dove sono? Dove sono? Abbiamo fatto? Ne abbiamo finito ragazzi Non abbiamo finito No Porca miseria Emo Sa Demo Che va così Oddio No No Emo Che succede? E niente Potemo Fa più niente Oddio C'ho pure la balestra Mo levatevi tutti Mira Ah beh Una balestra convenzionale Dove stanno? Ma me lo muove? Oddio Bene Via dalla mia città Non ho più dardi però Non ho più dardi Ok Quest'altro E' molto Eh Ho sbagliato tutto Via poco Buono Buono E' mi ammazzata E' mi ammazzata Vabbè C'è l'arciere L'ho capito Oteo io Eh Ma non ci sono altri tardi qua Te pare? Complicato Mo senza tardi Avrei potuto Ucciderli Con Solo con la fionda Alcuni Speriamo di non pentirmene C'è la pietra C'è la pietra Ce l'ho Le due Due anni E' calla Ah Devo correre Ok Vai 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 Certo Stamicia Gli tocca Dagli Una medaglia Perché per forza Poraccia Dove Ah Qua Veramente una medaglia Toccataglie Beh insomma Voi mi avete provocato Pure prima Insomma Non è proprio Che ho voluto uccidere Mi piace questa autoconvinzione Cioè questo autocaricarsi Perché alla fine Lei si autocarica Perché non ha il coraggio Di cui ha bisogno Però cerca di trovarlo Questa cosa a me piace tantissimo Che nessuno è preparato A una cosa del genere Veramente non puoi essere preparato A una cosa del genere Allora dove andiamo De qua Sì Emo qua Toccatattenti Allora Questo non si muove Che si inventiamo Questo sta qua dietro Quest'altro Però con La cosa del fuoco Lì potremmo farlo Con la pece Vai 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 Scappa scappa E' uguale E' uguale Vai 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 E' uguale così E' uguale così Vai 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 Che abbiamo fatta Mo' c'è sta l'arciere L'ho visto E' un casino qua Devo solo che corre Devo solo che corre Ok Forse ci abbiamo fatta Ma è pazza Ma è pazza Che potevamo scappare Guarda se gli fa bene tutti i dobi E' sicuro E' sicuro a farla Tieni premuto B per saltare Ce l'ha scritto Oh madre Oh madre Ma mo' pure Amicia Non credo che pure Amicia Perché non hanno toccato Amicia Perché non hanno toccato Amicia 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 Bello proprio Bellissimo questo capitolo Mi è piaciuto il finale Il sesto capitolo Sarà tutto alle spalle Lo faremo nel prossimo gameplay Però comunque sempre l'anteprima Ve la faccio vedere Insomma Il sesto capitolo Ugo è carissimo, veramente qualcosa di puro, di innocente, veramente Poverino, c'ha questa macula, questa malattia, questo potere Ed è bella la storia, veramente Ma vedi che esiste l'isola E poi è che è risorto con la ferita, però diciamo Ma che bello ragazzi, veramente, ragazze, veramente una cosa Io forse proprio così la metto l'immagine, come copertina Veramente io spero che vi stia piacendo questo gioco che lo sta giocando E spero che vi stia piacendo come lo sto facendo io per gameplay questa serie A tal proposito io vi dico grazie, grazie, grazie Perché la continueremo questa serie con il sesto episodio Per ora io vi saluto, sapete tutto, il link è in descrizione E sapete anche di non cliccare mai i link nei commenti Mettete mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina Il main giallo e nero vi saluta e vi aspetta col prossimo video gameplay Che sarà su questo qui come video Poi farò comunque le dirette, sempre le pubblicherò le storie su Instagram E comunque attivate la campanellina così non vi perdete nulla Ciao! Bottoncino magico che mi piace tanto Grazie a tutti! Grazie a tutti!